Buonasera, una serata con tantissime cose positive, immagino lei ne avrà una più positiva delle altre e poi per le tante occasioni che ha avuto il Napoli, se il fatto di non avere proprio stasera un centravanti di ruolo rappresenta per lei il grande rimpianto? Io non ho rimpianti di niente stasera, devo prendere atto dalle partite, quello che succede, devo andare a lavorare sulle cose che sono successe senza portarsi dietro gli episodi perché servono solo a sporcare quello che deve essere il modo di ragionare, il lavoro che bisogna andare a fare sulla squadra per la prossima partita. Io dico soltanto che abbiamo avuto l'atteggiamento giusto e ho fatto i complimenti non ai ragazzi ma ai miei professionisti perché sono dei professionisti eccezionali e questo è l'atteggiamento corretto per andarsi a giocare il risultato delle partite. Poi gli episodi a volte ti danno contro, ti danno ragione però senza doversi fare sangue marcio su quello che è il dettaglio che ti ha giocato contro dentro la gara perché ormai non ci si può più mettere le mani per cui serve soltanto ad essere più nervosi e a parlare probabilmente di meno di quello che invece bisogna usare nella prossima partita. Buonasera mister Spalletti, una domanda sorge spontanea, Osimen se la farà recuperare per il ritorno, in caso contrario pensa di mandare lo stesso schieramento in attacco o pensa a qualche variazione visto che comunque le occasioni ci sono state ma non sono state sfruttate adeguatamente. Grazie. Sì, forse non ho completato la risposta di prima perché me l'aveva chiesta anche la sua collega se avessimo avuto una punta di ruolo. Probabilmente avrebbe avuto più possibilità di quello che ci gioca qualche volta però Elmas ha contribuito a non far iniziare mai l'azione in maniera corretta, ha fatto tantissimi metri, ha sporcato qualsiasi costruzione loro sono andati a tentare di fare, hanno dovuto alzare spesso la palla. Cioè questa, sì, molte dentro gli spogliatori si chiama pallata dal portiere verso la punta, questa pallata costretti a fare questa pallata che poi diventa una fase di nessuno quando la palla è per aria perché c'è un duello, poi c'è un lavoro da fare sulla seconda palla e chi riesce a pulire quella palla lì poi si diverte di più perché se la palla ce l'hanno gli altri diventa fatica se la palla ce l'abbiamo noi diventa divertimento. Quindi si tratta di chi è bravo a fare quella cosa lì e abbiamo fatto bene anche quella cosa lì spessissimo dentro la gara stasera per cui diciamo che ha probabilmente avuto meno possibilità che poteva avere un attaccante Elmas però poi li ha costretti a fare questo gioco meno pulito dove ci abbiamo poi costruito un po' la prestazione ecco su questo inizio non chiarissimo del Milan perché questa pressione è sempre stata portata in maniera costante e in maniera equilibrata perché poi è bastata una volta dove ci sono passati dentro con la pressione hanno trovato il vuoto e l'hanno portata a casa con quella situazione lì ecco noi non abbiamo nessun ramarico, mi aspettavo giocassero una partita così e questo è la cosa importante per quanto riguarda la prossima al di là che ci sia uno in più o uno in meno così per quello che è le possibilità che sia a disposizione sono il 100% perché la programmazione di lavoro è stata fatta in quella direzione lì e il fatto di tenerlo fuori stasera, di non rischiarlo neanche nella partita di sabato probabilmente ci permetterà di completare quel lavoro che è stato costruito dai medici poi può succedere di tutto può succedere però prego Buonasera Spalletti, Fabio Conte, agenziaria ha pesato secondo lei lo stadio e che clima si aspetta al Maradona se può aiutare la squadra questo è un dato di fatto che va ancora a vantaggio dei miei calciatori perché se una serata come stasera in un clima come quello di stasera entri in campo e sei titubante invece di creare subito due occasioni pulite da gol non ne esci vivo da questo contesto qui invece la squadra ha avuto la reazione corretta ha avuto l'atteggiamento, la ricerca corretta è entrata in campo con il piglio della squadra tosta, della squadra forte che vuol comandare la partita poi di là ci sono dei campioni che in dei momenti non ci riesci e devi difenderti e devi arrangiarti però nella testa c'era quella volontà lì e diventa fondamentale che clima sarà al Maradona? non lo so però come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera lì contro il Milan al di là di quello che è stato il risultato di campionato quello che mi ha fatto ancora più male è vedere il Diego Armando Maradona che è una squadra che sta vincendo il campionato che è 33 anni che non vince il campionato che ha possibilità di portarlo in fondo una partita fondamentale che ti mette nelle condizioni di avere probabilmente una tranquillità psicologica per giocare poi la Champions tre giorni dopo vedere tutti contro tutti che ci si contesta in quella maniera lì è una roba che non riuscirò mai a capire e che mi porterò dietro per sempre perché è inspiegabile come si possa arrivare a quella roba lì se succede la partita di ritorno io vado via dalla panchina se la partita di ritorno succede la stessa cosa prendo, vado via e vado a casa perché è una roba per quello che ci giochiamo per l'importanza per la sensibilità che hanno questi ragazzi qui perché io ho una squadra di ragazzi per bene di grandi professionisti di buoni calciatori ma che sono sensibili a quello che gli succede intorno perché abbiamo giocato in un clima che non ci ha assolutamente aiutato e che è inspiegabile non aiutare la squadra prenderla in ostaggio che non ci incastra niente la squadra per una partita è una roba inspiegabile Paolo Vinci, Sette Gold buonasera Spalletti complimenti al Napoli per il calcio bellissimo che ha fatto in Italia e in Europa complimenti alla società e complimenti a lei per cui conferenze non sono mai banali sempre interessanti e ricche di contenuto vorrei chiederle sinceramente alla luce di questa partita decisa da episodi in cui il Napoli ha dimostrato ancora una certa superiorità vorrei sapere da lei le percentuali che rimangono se sono 50-50 come ha detto Pioli oppure sono diverse per la qualificazione alla semifinale grazie che noi tutti del Napoli rivolgiamo complimenti anche a lei per tutte le belle parole che ci ha dato a tutti ma anche noi gli si voglia a contraccambiare però però qualsiasi risultato fosse venuto fuori non sarebbe stato determinante per la partita di ritorno in queste competizioni qui può venire fuori anche un risultato clamoroso ne è piena la storia di ribaltamenti di risultati importanti al primo turno e poi al secondo turno è successo il contrario per cui la partita è sicuramente aperta per quello che riguarda quello che è successo negli episodi sono episodi dove dove io devo badare a quelli che ho determinato io e probabilmente anche se l'avessi tolto un minuto prima non sarebbe successo questo poi non vado a pensare se fallo ha preso palla come mi dicono tutti che abbia preso palla io devo pensare a quello che posso che posso fare io e non devo disperdere energie in altre attenzioni Ultima in Roma Sì Buonasera mister quindi per concludere è sempre 50 e 50 la possibilità di qualificazione? L'abbiamo detto è sempre 50 e 50 l'abbiamo detto è la stessa cosa 50 e 50 non lo so loro hanno l'hanno vinta la prima partita per cui sicuramente hanno più vantaggio di noi perché avranno la possibilità di fare la partita che vogliono a noi non ci interessa niente noi dobbiamo entrare in campo con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto stasera perché ho visto tante belle cose che mi sono piaciute e e ci vediamo fra una settimana grazie a tutti grazie a tutti